Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Cards to your friends and family this holiday season. Quando sento certi brani e mi sento così coinvolto emotivamente, ancora di più mi rendo conto di quanto è difficile scrivere in italiano. Perché quando poi vado a prendere la traduzione del brano e mi rendo conto che c'è una grossa perdita, non dal punto di vista concettuale, perché è proprio questa la potenza di una lingua come quella inglese, che ti consente di esporre il concetto. Ad esempio, sì, mi sono gettato nel luogo infuocato, questa è la traduzione letterale, per dire semplicemente ho perso la rotta, no? I Pink Floyd, non so, ho perso lo sparo della partenza avrebbero detto. Ecco, i Pink Floyd sono fortissimi proprio perché sono una delle poche band che veramente in inglese è riuscita a scrivere dei capolavori, che puoi tradurre in mille lingue e non perdono di qualità. Ed è difficile, è difficile. Per questo noi in Italia cerchiamo sempre di riprodurre una certa tipologia di musica che all'estero va forte, che all'estero ci piace, ma poi diventiamo molto poco efficaci. Quindi quando si parla di brani come questo, Out My Head, bisogna stare attenti perché io la reputo una canzone bellissima che a livello di mood e sonorità proprio fa capire il concetto del dentro la mia testa, ma facendo riferimento a che cosa? A errori che un uomo non riesce a perdonarsi? Infatti dice, Tradotto, Oddio, ho commesso un grosso errore. Ma di chi stiamo a parlare? Oh lord, I've made a big mistake. È un'altra cosa. È un'altra cosa. E qui in questo brano abbiamo proprio un uomo in caduta libera che non sente ragioni per giustificarsi. Un uomo che possiamo magari immaginare in un'età in cui forse non c'è tempo di rimediare e le uniche cose che restano, le uniche voci che sente, sono proprio quelle della sua testa. E quindi a quel punto si fa un riferimento, come spesso si fa in questi casi quando si è disperati, alla fede, alla spiritualità. E quindi quando poi andiamo ad ascoltare la parte che dice è arrivato il tempo per me di rilassarmi, penso sia il tempo per me, è a un'altra valenza, non stiamo a parlare di una dormita, di otto ore di sonno e tutto passa. È un rilassamento diverso. È il rilassamento di un uomo che fa i conti con i rimpianti. Cerco di vivere di ciò che vedo, dice. Cerco ad appellarmi al presente, a ciò che ho attorno, perché nella mia mente, nel mio passato, nella mia idea di futuro, in ciò che sento nel presente, c'è più di qualche problema. Ci sta roba che io non riesco a tenere. E quindi qui c'è l'idea. Cioè inizia il confronto interiore spirituale. Dov'è che avere fede è solo una fiducia accecante? Si domanda, ma non è che io adesso sento questo desiderio spirituale solo perché sono al capolinea? Quando ero forte, quando mi sentivo un re, quando mi sentivo al centro del mondo, dove era questa mia fragilità? Adesso mi rendo conto. La fede ha successo solo se ci sta mettendo alla prova? Quindi questa è un... che cos'è? È un modo che Dio usa per mettermi alla prova? Insomma, poi anche il sound ridà a quella roba black, appunto, che comunque è molto spirituale. Cioè questo è un brano che trasuda America. È il suo concetto di spiritualità che a volte è bigotto e massacrante. Altre volte è comunque bello perché è l'uomo che si interroga. Veramente. E non mette in discussione, semplicemente sta cercando di capire. Ed è una cosa che noi europei abbiamo un po' perso a livello spirituale, perché abbiamo un modo di razionalizzare. Gli americani anche razionalizzano, però... Ora io magari sto dicendo un sacco di cazzate perché non sono informato sulla band. Non sono informato. Sto parlando proprio a puro istinto di quello che sento. Magari stiamo parlando di persone inglesi e io sto dicendo americane. Però, nel senso, andiamo sul concetto. Il monologato. Non è Rai Cinema, non è Rai Documentario. Cioè non importa. Qui conta il contenuto. Perché qui conta il fatto che il testo dice Pensavo che il mio dubbio sarebbe morto e mi avrebbe reso forte. Cioè è chiaro che nella vita accadono cose. Ci sono difficoltà. E poi che succede? Che torniamo più forti. Qui c'è un uomo che passa la notte, arriva l'alba e non si sente più forte. Si sente che è ancora notte. E dice ma che cosa sta succedendo? A volte corro la mia bocca fino a scappare. Questa è un'altra cosa che... Come la traduci? A volte parlo, parlo, parlo per fuggire. Non uscire fuori dalla mia testa, dice. Fuori dalla mia testa. Questo invito a non uscire. Perché c'è il desiderio di redenzione. Non c'è la fuga a un certo punto, no? Inizia con esci, esci dalla mia testa. Inizia con un invito e poi a un certo punto ti fermi. Non uscire dalla mia testa. Quel oh Lord, quel oh Dio, non è un'esclamazione detta tanto per. È un chiaro riferimento. È tutto palese. C'è un uomo che si sta rapportando a Dio. Ora io non so voi come la vivete. Io personalmente credo in Gesù Cristo. Nel senso come figura. Mi ispiro a Lui, questo. Però non è che sono magari un credente, un bigotto. Non escludo nulla, ma non ho certezza. Proprio perché è il mistero della fede, no? Ci sono periodi in cui non me lo pongo proprio il pensiero. E periodi in cui invece sento la spiritualità, che non ha a che fare solo con la credenza. Qui abbiamo un uomo che è palese, crede, si sta rivolgendo a Dio. Non sta mettendo in dubbio niente. Sta semplicemente chiedendo perché sta pagando un conto tanto salato. E dopo che umanamente chiede, ed è una cosa umana, al Cristo stesso sulla croce, perché mi hai abbandonato? Lui che è Dio stesso. Pensate un po' la grandezza di questo personaggio storico, di questo libro. Vediamolo come un aspetto letterario. Oh, oh Lord, oh Signore, ora mi sono inginocchiato. Tutti commettiamo errori. E mi riposerò. Ma faccio fatica a respirare. Non un giudizio. Non un... Niente, non... Ci sono poi delle domande. E poi nuovamente, esci dalla mia testa, esci dalla mia testa. Perché? Perché è l'uomo che non è in cielo, non è anima. È il corpo che è sofferente. E quindi, giustamente, c'è questa richiesta di uscire. Perché? Perché ci sono tante domande. E fondamentalmente noi siamo tutti questo Signore. che cammina, che giace, che vive, che sopravvive. E non ha più risposte. Ha solo un inferno in terra. Ha solo... Ecco, io credo che la conseguenza di questo brano sia il perdono. La persona in questione sta cercando il perdono. E non lo trova. E quindi si ritrova a gridare. Esci dalla mia testa. È dura perdonare noi stessi. Perché bisogna prima perdonare gli altri. E non è solo un discorso razionale. È emotivo. È dura arrivarci. Ma musica come questa ci aiuta a svilupparci.